CEMS Verona ha inaugurato le nuove aree di chirurgia oculistica e riabilitazione durante l'Open Day del 20 maggio. Il Centro Medico Specialistico di Eccellenza è specializzato in oltre 20 specialità, radiologia e diagnostica per immagini e chirurgia ambulatoriale. L'Open Day è praticamente inventata una consuetudine. Ogni volta che inauguriamo un'area nuova del CEMS, lo vogliamo fare facendo partecipare i veronesi alla nostra felicità, tutto sommato. E quindi già un anno e mezzo fa, quando abbiamo inaugurato la nuova area con i 13 ambulatori nuovi, abbiamo erogato 150 prestazioni ai cittadini veronesi. Quest'anno abbiamo quasi raddoppiato perché a oggi, credo adesso, abbiamo erogato quasi 238 prestazioni che nella settimana precedente i veronesi hanno prenotato. Il CEMS è una moderna struttura polispecialistica di circa 3200 metri quadri distribuiti su tre piani dove operano più di 100 medici. Per essere aggiornati su tutte le convenzioni e le offerte disponibili dal CEMS di Verona potete visitare sia la pagina Facebook che il sito ufficiale. Le nuove aree che sono appunto l'area nuova chirurgica oculistica dove opereremo con dei laser a femtosecondi, a decimeri. Quindi andiamo alla cataratta tradizionale fatta chirurgicamente, la cataratta fatta con il laser a femtosecondi. Affiancato a questa c'è la nuova area riabilitativa che è più funzionale e che predilige il rapporto 1-1 con il terapista. Quindi una riabilitazione funzionale personalizzata, assolutamente personalizzata. E dopo la crescita ancora di tre ambulatori medici che portano quindi gli ambulatori medici del CEMS a 40. CEMS Verona vi aspetta in via Lorenzo Fava 2 a Verona.